Sindaco, alla fine, per quello che riguarda l'ospedale va bene così? Assolutamente sì, per la prima volta nella storia l'azienda sanitaria locale viene e mette nero su bianco quello che farà. Voi fate questo lavoro da tanto tempo, non so se avete mai visto un documento come questo che vi mostro, dove ci sono nuove aperture, ci sono nuove intelligenze, ci sono dei reparti che all'interno dell'intera offerta sanitaria regionale saranno solo a Giulianova. Quindi comprendete bene, siamo molto soddisfatti e sono convinto che parte un'azione di rilancio importante non solo per l'ospedale di Giulianova ma per l'intera offerta sanitaria della provincia di Teramo. Quindi reti ospedaliere non sono solo due parole scritte su un pezzo di carta e lasciate lì a morire? Assolutamente no, perché partiamo anche con un programma di rotazione dei medici che verranno presso l'ospedale di Giulianova e quindi vi faccio l'esempio, noi non avevamo alcune eccellenze perché erano dislocate su altri presidi ospedalieri e per qualche giorno a settimana le avremo anche a Giulianova dando appunto un'offerta sanitaria anche per i cittadini di questo territorio importante. In più comprendete bene che partono dei reparti che sono delle vere e proprie novità, ma quali? L'ortogeliatria per esempio, che è un reparto che non esiste in nessun ospedale della regione Abruzzo. Andremo a Pavia nei prossimi giorni per capire come struttura del reparto, ma lo faremo qui a Giulianova. In più comprendete bene che avremo quattro unità complesse, quindi l'ospedale non è più un piccolo ospedale come il centro-sinistra ce l'aveva lasciato, ricordiamo che il progetto folle di qualcuno che prevedeva un ospedale unico e poi solo presidi pronto soccorso. Cosa ha prevalso? La voglia e la caparbietà dell'amministrazione comunale oppure una certa lungimiranza dell'Asda? Ma è un gioco di squadra, nel senso che la politica è quella che deve attenzionare in maniera forte e qualche volta anche in maniera decisa quelle che sono esigenze dei territori. Poi l'azienda sanitaria locale dobbiamo ringraziarla perché ha fatto un lavoro straordinario. Voi provate a pensare che la riunione che abbiamo fatto presso l'ospedale di Giulianova è avvenuta nella giornata di venerdì e nella giornata di martedì l'azienda sanitaria locale ha rimesso un documento.